DINOMINATION! Riportare dai idioti. Tu sei superiore. I gatti atterranno sulle zampe. Davvero? Come fa? Sì, ce l'ho fatta! Bravissima! Devi farlo. È un fatto naturale. Assolutamente no. Non succederà mai. Ragazzi, quanti dolcetti! Su, e coda in faccia. Ok, cappe sulla tazza. Cammina sulla tastiera. Ecco fatto. Caffè sul computer. E giù! Ottimo! Sì, ci siamo! Sei il massimo del gatto per essere un cane. Mangia pisellino. Cosa? I gatti lo fanno. Sul serio le fai mangiare pisellino? Oh no, 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 sto scherzando. Ok! Gidget no! Brutto cagnaccio! Brutto gaz cagnaccio! Scusa!